Questa è la nostra avventura fino a Zaglado in bici e siamo già arrivati a Zaglado per ora siamo qui come si può ben vedere manca poco per arrivare lì e siamo in discesa e adesso ripresa Cinematogra più fino a Zaglado in bici a passare mm-max e adesso si pedala Musica 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 Siamo arrivati si si margia si si in due ore 08 siamo arrivati a Zaglado non ci vorrei venire a Zaglado il problema sono i culi gelatino no 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 papa Siamo sui 30 chilometri all'arrivo, partiti da Grado alle 3, ora sono le 3.40, 3.05, da dove è dalla spiaggia. Così deve diventare il mio campo, adesso siamo ad Aquileia, io non so perché sono qui, guardo questa chiesa e mi aspetto da un momento all'altro, una scena d'Assassin's Creed, il volo dell'Aquila, il bacio della fede scusami, dopo questa sosta foto ignoranti si torna verso casa, faremo ancora una pausa nel mentre, l'obiettivo è fare una pausa ogni 15 chilometri e dovremmo averne ancora una e poi saremo a casa. Siamo a Ruda, sono le 16.22, siamo entrati a Ruda, c'è vento. Appena tornato dal giro in bici, abbiamo fatto un girettino fino a Grado, è stata abbastanza dura, io personalmente non sono abituato a questi giri lunghi avendo una ADH e è stata dura anche perché faceva male il culo, ci siamo divertiti comunque, è stato un bel giro, è stato bello stare comunque tutto il giorno in compagnia, dato che finalmente si può uscire con gli amici. siamo partiti alle 9, alle 11 circa, eravamo a Grado, abbiamo fatto un giretto, poi siamo andati a pranzo e a pranzo è successo il problema enorme. eravamo seduti a mangiare e abbiamo ordinato da Chebabbaro, Magico Calypso o Chebab, abbiamo ordinato panini e piadine, Magias si siede, inizia a mangiare, poi abbiamo ordinato anche una pizza da smerzarci, si alza un attimo, fa due passi, arriva un gabbiano e si prende la piadina e si mette in strada a mangiarla. ovviamente noi non potevamo aiutarlo perché dovevamo tenere anche per rispetto di chi lavorava lì, che deve seguire i regolamenti, eravamo seduti a tavoli diciamo distanti, quindi lui era in un tavolo solo ed eravamo a due panche di distanza, quindi non avevamo neanche il tempo di andare fin lì per prendere per fare qualcosa e un gabbiano si è mangiato la piadina di Magias. Per fortuna e grazie soprattutto ai Chebabari che gli hanno fatto una piadina in più, gli hanno fatto un'altra gratuita, gli hanno regalata. Se volete vedere l'andazzo della storia del kebab, guardate le storie in evidenza di Magias su Instagram, vi lascio nella descrizione il link del suo profilo. La parte dura è anche stata il ritorno perché eravamo stanchi, siamo partiti per le tre, eravamo quindi sotto il sole e sono anche un po' bruciacchiato la faccia, ma tutto il resto, a parte il vento, a parte il male al culo, è andata liscia e ci siamo anche divertiti. Consiglio anche di farvi un giretto, magari non fino a Grado, ma ad esempio Marina Iuli anche un po' più vicino, o Sistiano anche qua in zona, potrebbe anche essere bello per fare qualcosa di alternativo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!